Per un sorriso sano e senza imperfezioni, affidati a Dental Clinic Italia. Dental Clinic Italia. A Cava de Tirreni, in via Rosario Senatore 40, e a Salerno, in via Santi Martiri Salernitani 15. Infoline 089 44 30 34 e www.dentalclinicitalia.it Dopo la cena di beneficenza che si è tenuta lo scorso 19 dicembre, il movimento Cava Attiva, presieduto da Riccardo Senatore, ieri pomeriggio ha consegnato alla dirigente scolastica del Terzo Circolo, Raffaelina Trapanese, sette personal computer che andranno a sostituire quelli rubati lo scorso settembre alla scuola della frazione annunziata. L'associazione che è nata da poco, già nel suo nome indica la finalità, cioè quella di essere attivi. E quindi noi abbiamo colto con entusiasmo questa iniziativa di raccogliere questi fondi attraverso una cena di solidarietà che abbiamo realizzato nel mese di dicembre e con la raccolta di questi fondi siamo riusciti a comprare e a donare al plesso dell'annunziata sette computer da sostituire a quelli che sono stati oggetti di un furto nel mese di settembre. Quindi la finalità è stata raggiunta con un consistente impegno economico e che ci promettiamo in futuro di replicare qualora ci dovesse essere l'opportunità e la necessità di organizzare altri eventi di tenore solidale. Questa è una giornata molto importante per la nostra scuola. Il terzo circolo di Cava ha ricevuto da parte delle associazioni di Cava grande solidarietà in occasione del furto che ha interessato il plesso della Santissima Annunziata. Voglio ricordare che sono stati sottratti a plesso 21 computer, sottratti ai bambini in primis e sono stata subito contattata dall'ex assessore Enrico Bastolla e la sua chiamata mi ha fatto piacere. Mi ha fatto capire che comunque la scuola godeva di solidarietà intorno a sé e subito dopo il movimento Cava attiva con la figura del presidente Riccardo Senatore e della responsabile Marisa Annunziata sono stati accanto alla scuola organizzando questa cena di beneficenza e fornendo oggi alla scuola sette computer che sicuramente trasferiremo al plesso per far sì che i bambini possano riprendere la loro attività didattica attraverso anche appunto il digitale. Quindi ringrazio tutti e credo che questo sia il risultato di una scuola aperta al territorio, una scuola che lavora con le associazioni, con gli enti culturali del territorio che ha molti partner di progetto e quindi alla fine c'è un'alleanza con il territorio che aiuta la scuola a superare anche i momenti più difficili.